Ancora un pareggio contro una squadra veneta per l'Hockey Forte dei Marmi. Dopo il 3-3 interno con il Montebello è arrivato il 3 pari anche a San Drigo. Primo tempo 2-1 per i versigliesi. Un pareggio con non poche recriminazioni per una partita che in doppio vantaggio a meno di tre dalla fine sembrava vinta ma invece la costanza e la determinazione dei padroni di casa è stata premiata per il raggiungimento di questo 3 pari. Sblocca il risultato Garzia per il San Drigo. Il pareggio di Rubio difensore con il vizio del gol. Festa porta in vantaggio il rosso-blu. Sembrava una partita in discesa per la squadra di Alberto Orlandi. Nel secondo tempo addirittura il Luzzi trasformava un tiro di rigore ma come detto la caparbietà di Garzia e Neves premiano la squadra locale che raggiunge questo 3 pari. Un secondo pareggio come detto che lascia la mare in bocca ai rosso-blu. La squadra versigliese ha evidenziato progressi a livello di gioco e gestione della pallina ha però pagato cari alcuni attimi di sbandamento nei minuti finali.